Non è facile dopo questi filmati e tutte le emozioni che ho incamerato durante questa mattinata, soprattutto poi le emozioni derivate dalle immagini, dire, raccontarvi qualcosa di un progetto assai complesso e che è durato anche molto nel corso del tempo. Della mia emozione, tacerò perché ve ne accorgerete. Allora, mi devo mettere gli occhiali. Deve essere terribile per quelle madri stare continuamente in contatto con questi bambini. Che ne dite se qualche volta vado a trovarle a casa loro, così che possano riposarsi e che io possa vedere da vicino cosa significhi vivere in contatto con questi bambini autistici? Allora, queste parole le ha pronunciate Francis Dustin in un'intervista rilasciata verso la fine della sua carriera e spostano l'attenzione sulle carenze del bambino con autismo non attribuendo il comportamento del bambino alla mancanza di cure da parte della madre. Le osservazioni della Dustin inducono una riflessione precisa e per niente scontata. Tanto si parla di autismo, non solo in questa sede ma in moltissime sedi, ma poco e niente del vissuto di quelle madri, delle difficoltà che affrontano quotidianamente facendo i conti con un profondo, a volte smisurato senso di inadeguatezza. Deve essere devastante pensare che il proprio figlio, che il danno del proprio figlio dipenda dai propri comportamenti e può esserlo ancora di più pensare di aver generato un figlio diverso. Le parole della Dustin introducono con precisione il lavoro con le madri del progetto Tartaruga perché lo spirito che l'ho animato fin dall'inizio dalla leggera dottoressa di Renzo che lo ha fortemente voluto, da tutte le persone implicate nel progetto, da me che ho condotto i gruppi è stato proprio questo. Cercare di capire da vicino, fedeli al principio di integrazione e ovviamente in una prospettiva psicodinamica, i sentimenti di queste donne, viste per una volta non come, come diceva anche Simona Del Rico, non solo come le madri di, ma come persone reali, fuori dalla colpevolizzazione, non enfatizzata soprattutto dai detrattori dell'approccio psicodinamico. Persone inserite nel presente della cura del bambino con autismo, ma anche portatrici di una propria storia, e questo è molto importante, donne, persone con un passato e un futuro. Nel progetto abbiamo cercato di dar loro attraverso l'accoglienza, il contenimento e il confronto gruppale uno spazio reale, oltre che simbolico, per uscire dall'isolamento, dall'esclusione, che molto spesso si configura come auto-esclusione. In un'ottica più generale l'intento è stato quello di attivare un osservatorio che integrasse altri strumenti come i questionari e le interviste con i genitori, inserendo il grande tema e il complesso tema dell'autismo in una prospettiva più ampia. Prima di iniziare la narrazione del percorso, che malgrado la brevità del tempo possa darvi un'idea di ciò che è stato fatto e che spero si possa continuare a fare, vi propongo un po' di storia e qualche dato numerico. Nel 2003, un anno prima che prendesse il via ufficialmente il progetto Tartaruga, fu attivato un gruppo sperimentale composto da otto madri di bambini con autismo, seguiti dall'Istituto di Ortofonologia. Otto madri spaventate, ma piene di coraggio e desiderose di mettersi in gioco. Si sarebbero viste per dieci incontri in un lavoro di gruppo che prevedeva l'utilizzo di tecniche attive, oltre che verbali, condotto dalla sottoscritta e con la dottoressa Di Renzo nel ruolo straordinario di osservatrice partecipante, con il compito di stilare la memoria dei gruppi. Redigere la memoria era necessario, avendo deciso per la delicatezza della situazione, per mantenere il più possibile intatta la spontaneità delle partecipanti, e io aggiungo anche del conduttore, di non utilizzare videoregistrazioni, modalità che abbiamo mantenuto anche in seguito, successivamente la dottoressa Di Renzo non ha fatto più la memoria, lo hanno fatto alcune giovani psicoterapeute in formazione come parte del loro tirocinio, e le ringrazio perché mi hanno fornito un lavoro straordinario sul quale spero di poter tornare in maniera più completa. Allora, dopo quell'esperienza, i gruppi hanno preso il via come parte integrante del progetto nel 2008 e sono proseguiti ininterrottamente fino al 2014. Durante l'arco di un anno scolastico, con scansione prima settimanale, poi quindicinale, con due e a volte anche tre gruppi per ogni annualità, in sei anni sono state seguite all'incirca 50 madri, non sono poche. Agli incontri di un'ora e mezza ciascuno hanno preso parte da un minimo di sei a un massimo di dieci persone, con l'opportunità per le partecipanti di ripetere l'esperienza anche l'anno successivo. Si è trattato di gruppi omogenei ovviamente per sesso, sufficientemente per età, ma fortemente disomogenei in rapporto a livello economico-culturale e alla scolarizzazione. Chi lavora con i gruppi sa che questo è un fattore che crea delle difficoltà molto importanti. Il lavoro è stato proposto come un'opportunità a quelle madri che accompagnavano i figli per la psicoterapia. In questo modo si sono strutturati due lavori in parallelo, in una stanza i bambini, in un'altra le madri. La libertà di partecipare o meno ha avuto una ricaduta positiva sul lavoro, perché chi ha aderito lo ha fatto partendo da una motivazione forte. Nella mia conduzione ho utilizzato, oltre all'ascolto in un'ottica junghiana, che tenesse conto di elementi simbolici e archetipici, anche alcune tecniche di derivazione psicodrammatica. Il tutto mantenendo l'attenzione su quei fattori che Irving Hialom, nel suo testo Teoria e pratica delle terapie di gruppo, individua come elementi determinanti l'efficacia dei lavori di gruppo, qualunque sia il loro orientamento teorico, pertanto da privilegiare in alcuni contesti. Ve ne cito alcuni. Infusione della speranza, universalità, informazione, apprendimento interpersonale, ascolto scevro dal giudizio, altruismo. Questi sono solo alcuni. Oltre alle finalità sopra descritte, in concreto, scopo del lavoro è stato quello di aiutare le partecipanti a entrare in contatto con le problematiche psicologiche legate all'essere la madre di. Ma anche quello di favorire, e questa è la cosa su cui punto l'attenzione, vi prego di puntare l'attenzione, ma anche quello di favorire l'acquisizione di strumenti pratici, di avere l'opportunità di confrontarsi su temi comuni, mai stabiliti a priori, ma che emergessero spontaneamente di volta in volta. Il processo di dare consigli, sottolinea sempre Yalom, più che per il contenuto del consiglio in sé, può essere proficuo perché implica una reciproca cura. Tra i temi, i temi emersi sono tantissimi, come potete ben immaginare. Tra i più gettonati, l'utilizzo della famigerata legge 104. da alcune madri rifiutata, incredibilmente rifiutata, nel tentativo di negare l'evidenza della malattia. Il passaggio dalla scuola dell'infanzia a quella di grado superiore, i numerosi problemi legati all'alimentazione, al controllo sfinterico e all'acquisizione delle varie autonomie, il poter mettere a fuoco il desiderio e la possibilità di avere altri figli, affrontando la paura che il nuovo bambino possa essere affetto dalla stessa patologia. Il prendere coscienza della situazione, se ci sono, degli altri figli, quasi sempre adultizzati, o comunque relegati in una posizione di secondo piano. Figli accantonati, li ha definiti una delle madri. Lavorare su questo tema, per me è stato uno degli aspetti più importanti, una delle priorità. E ancora, la riflessione sulle risorse disponibili per l'accudimento del bambino, a volte non viste o addirittura rifiutate per sfiducia, partendo da quelle familiari. La paura del giudizio degli altri, la vergogna che induce più di quanto non si immagini a tenere nascosta o a camuffare la problematica del figlio. Qui ci sono degli aneddoti straordinari, come accenno brevemente, è stato consigliato a una famiglia con bambino autistico di portarlo dall'esorcista. Siccome loro avevano delle conoscenze, il Vaticano, questi che davano il consiglio, hanno detto, sentite, io, cioè, sarebbe meglio che lo portiate dall'esorcista a questo punto. Il dolore e l'ansia legati all'attesa di possibili soluzioni positive. Infine, questo forse è stato l'aspetto più importante, vedere il bambino reale, liberato, almeno in parte, dalle proiezioni deformanti indotte dai limiti personali e dalla percezione della malattia da parte del collettivo. Questi gruppi, fuori da ogni idealizzazione, sono stati di grande stimolo e interesse per tutti noi, anche grazie alla presenza al loro interno, di uno o più persone migranti, portatrici di codici culturali e religiosi diversi, solo apparentemente inconciliabili. Abbiamo visto nei filmati che ci sono dei bambini anche di altri colori, no? Qui a LOM parlerebbe di universalità. Tengo a sottolineare questo elemento che riconduce al vasto tema dell'integrazione, rifugendo ogni tentazione separativa, integrazione delle teorie e delle tecniche, ma anche integrazione degli esseri umani. Entrando nello specifico del lavoro, in genere i primi due o tre incontri sono destinati alla formazione del gruppo, favorendo la coesione fra i suoi membri. La coesione è un fattore terapeutico già di per sé stessa e influenza sensibilmente tutti gli altri. Compito del conduttore sarà quello di creare un clima di fiducia che permetta di abbandonare le resistenze. Tutti devono sentirsi visti e nessuno si deve sentire giudicato. Seduti in cerchio si incomincia dalla presentazione libera che quasi sempre si configura come la narrazione della propria storia in relazione alla malattia del figlio. Come sottolineano Ammanniti e Stern, la narrazione, in quanto espressione culturale precoce e ben radicata nella storia dell'umanità, permette di maneggiare, di conferire senso e quindi pensabilità ai materiali più temibili. E inoltre, come aggiungerebbe Cyril Nick, favorisce l'emersione e la strutturazione del processo di resilienza. Con l'esperienza ho imparato che solo una volta che il gruppo si è consolidato si possono introdurre le tecniche psicodrammatiche. Fidarsi permette di affidarsi, di mettersi in gioco, in questo caso letteralmente. L'obiettivo terapeutico dello psicodramma, scrive Grete Loitz nel suo libro Rappresentare la vita, è da una parte la liberazione e l'integrazione della spontaneità del paziente, prima di tutto in quanto rappresentazione del suo mondo, e dall'altra la rappresentazione del suo comportamento, dei suoi fantasmi, dei suoi pensieri, della sua immaginazione. La tecnica psicodrammatica è estremamente duttile, può essere utilizzata in moltissimi contesti, e come sosteneva Moreno, il creatore dello psicodramma, ogni psicodrammatista deve essere capace di adattarla a sua discrezione, senza che ciò comporti uno snaturamento della stessa. In questi gruppi di tipo esperienziale e non terapeutico, sottolineo questa differenza, abbiamo utilizzato più che la messa in scena canonica, qualche volta sì, per esempio quella che vi ha fatto vedere Carlo è proprio una messa in scena, è bellissima, è catartica è stata sicuramente, anche noi l'abbiamo fatto, ma per piccoli frammenti, in genere abbiamo utilizzato i giochi psicodrammatici, i role playing, le inversioni di ruolo e soprattutto le sculture psicodrammatiche. Il role playing, senza entrare nello specifico, è una delle colonne portanti della tecnica psicodrammatica. Nei nostri gruppi lo utilizziamo soprattutto nel momento in cui il protagonista, nel nostro caso una delle madri, deve parlare di una persona per lei significativa. Invece di farla raccontare, la si invita a impersonarla, ad assumerne il ruolo, come se fosse la persona stessa a presentarsi nel qui e ora della situazione. Impersonare di volta in volta il figlio, il marito, la madre e così via permette alla persona in questione di calarsi empaticamente nei vissuti dell'altro. Nell'inversione di ruolo, il protagonista, utilizzando un ego ausiliario che interpreti lei stessa, stabilisce un vero e proprio dialogo con la persona con la quale vuole rapportarsi. Abbiamo assistito a interessanti confronti e chiarimenti fra madre e figlia, fra amiche, fra sorelle, fra mogli e mariti. La scultura psicodrammatica, sarebbe bello poterle vedere perché le tecniche attive rendono poco raccontate, bisognerebbe farle più che vederle. Comunque, spero che qualcosa vi arrivi. La scultura psicodrammatica, invece, è una tecnica in cui non viene utilizzato il canale verbale, ma soltanto quello corporeo. Il protagonista scolpisce un frammento del suo atomo sociale utilizzando gli altri membri del gruppo, gli ego ausiliari, assegnando loro delle posizioni fisiche per comporre una scultura alla quale poi dovrà dare un titolo. La tecnica è interessante perché dà la possibilità di vedere in vivo e da molte angolazioni, data la tridimensionalità della scultura, la struttura della vita relazionale dell'individuo, qualità dei rapporti, vicinanze, lontananze, ostilità, invischiamenti. Al fine di far emergere la più vasta gamma possibile di elementi, la consegna è di lavorare anche sulle espressioni facciali. Alle nostre madri in genere viene proposta la scultura madre-bambino e quella della famiglia, ben più ricca di rivelazioni. Ve ne racconto per concludere una emblematica, una scultura della famiglia. La protagonista sceglie come di rappresentare per prima il bambino autistico, ovviamente. Suggerisce che sia sorridente e lo colloca a cava ceccio di suo padre, cioè del nonno, del bambino. Il figlio più grande viene messo davanti, un po' spostato, seduto, con la faccia imbronciata. La nonna, cioè la madre della protagonista, guarda il figlio più grande con aria di rimprovero. L'ex marito viene personificato nel termosifone spento e piuttosto distante dal gruppo. per evidenziare lontananza e passività che ai suoi occhi hanno identificato quell'uomo nel ruolo di padre e di marito. Lei si pone al centro con l'intento di controllare tutto e tutti, di unire e separare nello stesso tempo. La posizione davvero scomoda della donna si evince oltre che dall'immagine e anche dal titolo che assegna la scultura, Nella morsa. finita la messa in scena che la fotografiamo, qualche fotografia l'abbiamo fatta, il gruppo partendo da coloro che sono stati utilizzati come attori condivide impressione ed emozioni. In questo caso si decide di dar voce al termosifone e lo fa ovviamente la protagonista e si immedesima nel ruolo del marito termosifone che potendo finalmente parlare dice mi hanno tagliato fuori non ce la faccio loro sono più forti. Si evince che per quest'uomo non sembra esserci spazio il ruolo di padre gli è stato in qualche modo scippato dal suocero non ha mai potuto davvero entrare in contatto con il figlio problematico neanche con l'altro. La signora con molta emozione verbalizza la sua presa di coscienza. Vedremo che in futuro cercherà di avvicinare l'ex marito ai figli e di avere con lui dei rapporti migliori. Il bello della scultura è che si può tornare su di essa anche in tempi successivi con la possibilità di apportare modifiche. In tal senso diventa un indicatore importante dei progressi circa la nuova consapevolezza raggiunta dalle persone e quindi della modifica di certi comportamenti disadattivi. Grazie. Applausi Grazie. 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 Grazie.